Capitolo VI Trascorsero quattro mesi senza che io mettessi piede in casa della signora Graham, né lei in casa mia. Le signore continuavano comunque a parlare di lei e la nostra conoscenza andò avanti, per quanto lentamente. Non prestavo molta attenzione ai discorsi sulla bella eremita, ma seppi che una mattina si era incamminata con suo figlio fino alla casa del reverendo, senza trovare nessuno a parte Mary Millward. In quell'occasione si formò comunque a parlare con lei e trovarono talmente tanti argomenti in comune che si salutarono con l'intenzione di rivedersi presto. A Mary i bambini piacevano tanto e a ogni mamma piace incontrare qualcuno in grado di apprezzare il suo tesoro. Anche io la vidi, e non solo in chiesa. Mi capitò di incontrarla mentre passeggiava per la brughiera o i brulli pascoli intorno a casa sua, con un libro in mano e il figliolo al seguito. Quando mi capitava di vederla da lontano, quando andavo a passeggiare o cavalcare o quando giravo da quelle parti per lavoro, cercavo sempre di avvicinarmi. Mi piaceva parlare con lei e con il suo piccolo cavaliere, che una volta superata la timidezza era una gradevole e interessante compagnia. Presto diventammo molto amici, sebbene non saprei dire quanto la mamma ne fosse contenta. Inizialmente ebbi l'impressione che volesse scoraggiare questo rapporto, questa nostra intimità, ma quando capì che, malgrado tutti i suoi pregiudizi, ero una presenza innocua, e che il bambino era felice di vedere me e il mio cane, felicità che altrimenti non avrebbe avuto, iniziò a non opporre più resistenza e ad accogliermi, anzi, con un sorriso. Arthur, quando mi vedeva, mi chiamava a gran voce e si allontanava dalla madre per corrermi incontro da solo, gli ultimi cinquanta metri. Se arrivavo a cavallo, lo facevo sempre venire con me al galoppo, mentre se ero con un cavallo da tiro, poteva godersi una passeggiata più lunga e tranquilla. Lei, tuttavia, non lasciava mai che si allontanasse troppo, e lo seguiva, a fatica, più che altro, credo, per assicurarsi che non instillassi in suo figlio strane idee. La cosa che in assoluto le piaceva di più era vederlo correre con sancio, mentre io camminavo accanto a lei, non tanto perché le piacesse la mia compagnia, e di questo mi illusi in seguito, quanto per la gioia di vedere il piccolo fare un po' di attività fisica utile a irrobustirlo, attività che non faceva quasi mai, dato che non aveva amici della sua stessa età. A quella gioia si aggiungeva poi anche il sollievo, che quando camminavo a fianco a lei non potevo causare alcun danno a suo figlio, direttamente o indirettamente. Tuttavia, certe volte le piaceva davvero parlare con me. Durante una passeggiata di venti minuti per la brughiera, era una luminosa mattina di febbraio, accantonò il consueto riservo e la solita durezza, e affrontò un argomento con tanta profondità di pensiero, e in tale sintonia con quel che ne pensavo io, che me ne tornai a casa con la testa tra le nuvole. Pensavo che sarebbe stato decisamente meglio passare il resto della vita con una donna così, piuttosto che con Eliza Millward. Poi mi vergognai della mia volubilità. Arrivato a casa trovai Eliza e Rose, una sorpresa che mi fece meno piacere del dovuto. Scambiamo qualche parola, sì, ma la trovai talmente insulsa rispetto alla serietà e alla maturità della signora Graham. Ah, come siamo d'animo mutevole! No! In ogni caso, mi dissi, Eliza non devo sposarla per forza, anche perché mia madre è contraria, né devo darle troppe illusioni. Se tengo fede a questo punto di vista, riuscirò a liberarmi dal potere ammaliante di Eliza, e, per quanto la signora Graham sia a suo modo discutibile, a curare il male maggiore con un male minore. Di sicuro, infatti, non mi innamorerò della giovane vedova, e lei non si innamorerà di me, ma potrei cercare la sua compagnia, se la cosa mi dà piacere. Se la stella della sua divinità risplende abbastanza da oscurare quella di Eliza, meglio ancora, ma con i miei dubbi... Con questo stato d'animo, non feci quasi più passare una bella giornata, senza spingermi fino a Wildfell Hall, nell'ora in cui sapevo che la mia nuova amica usciva di casa per passeggiare. Eppure, le mie speranze di parlare con lei venivano spesso deluse. Si incamminava in direzioni ogni volta diverse, usciva a orari differenti, e mi sorse anche il dubbio che lo facesse proprio per evitare di incontrarmi, tanto quanto invece io mi impegnavo a incrociarla. Ma era un'ipotesi talmente sgradevole che l'abbandonai subito. Poi, in un tiepido pomeriggio di marzo, mentre ero impegnato a sovrintendere ad alcuni lavori tra il campo e la valle, vidi la signora Graham giù a Roscello con un album da disegno in mano e il piccolo Arthur intento a costruire dighe e argini nell'acqua bassa. Un po' di distrazione era quel che mi serviva e non potevo certo lasciarmi sfuggire a un'occasione simile. Lasciai il mio lavoro e li raggiunsi subito, non prima di Sancio, però. Non appena vide il suo giovane amico, gli corse incontro al galoppo saltandogli addosso con tale impeto da farlo quasi cadere in acqua, ma per fortuna non si bagnò troppo né si fece troppo male da non poterne ridere. La signora Graham stava osservando gli alberi l'intorno nella loro diversità, tratteggiando con cura e abilità gli spogli e rami invernali. Non era di molte parole e io le restai accanto in silenzio osservando il lavoro della matita. Mi piaceva vedere quelle belle dita eleganti muoversi con tanta maestria. Dopo un po' notai però che le dita indugiavano, si fermavano spesso, tremavano e sbagliavano. A quel punto si fermò e si rivolse a me con un sorriso annunciandomi che il suo lavoro non traeva beneficio dalla mia presenza lì accanto. Vorrei dire che andrò a parlare con Arthur in attesa che abbiate finito, dissi Se mamma vuole mi piacerebbe tanto montare in sella. In sella? A cosa? Non è un cavallo quello laggiù disse indicando la grande cavalla nera a lavoro sul rullo. Oh è troppo lontano Arthur meglio di no gli rispose la madre. Le promisi che gliel'avrei riportato sano e salvo dopo avergli fatto fare un paio di giri e lei vedendo anche quanto suo figlio lo desiderasse acconsentì non era mai successo che mi permettesse di allontanarmi così tanto con il bambino. Soddisfatto e felice svettava sul suo grande destriero con aria tranquilla e compiaciuta. quando però lo riportai alla madre mi sembrò di trovarla scontenta che fossimo rimasti lontani così a lungo. Avevo notato che l'albunda disegno era chiuso quindi doveva essere rimasta lì ad aspettarci per un po'. Era a tempo di salutarci ma pur di non lasciarla così presto l'accompagnai per metà strada. Durante il tragitto si ammorbidi un po' e la cosa mi rese felice. Eppure giunti in vista della villa si arrestò e si girò a guardarmi di scatto come a dire che la nostra conversazione sarebbe finita lì e che a quel punto le nostre strade si sarebbero separate ed era in effetti proprio l'ora di tornarmene a casa. La limpida fredda sera stava cadendo infatti e il sole era tramontato e nel cielo grigio chiaro già brillava una luna gibbosa eppure non riuscivo a lasciarla risalire verso una casa tanto solitaria senza provare una forte compassione. La villa ci osservava dall'alto silenziosa dalla finestra al piano terra brillava una debole luce rossa mentre tutte le altre erano buie alcune senza vetri né infissi erano aperte sul loro interno cavernoso e scuro. Non trovate che sia un luogo desolato in cui vivere? Le chiesi dopo aver osservato la casa da lontano. Talvolta sì disse quando Arthur è andato a dormire io resto da sola d'inverno a sentire ululare il vento che rimbomba per le stanze deserte non c'è niente né libro né ricamo che possa distogliermi dai più cupi e angoscianti pensieri ma non voglio lasciare troppo spazio a certe debolezze se Recele è soddisfatta di vivere così perché mai non dovrei esserlo anch'io in fondo siamo fortunati a poter godere di questa possibilità finché dura pronunciò l'ultima frase sottovoce più a se stessa che a me poi mi augurò la buonanotte e si allontanò mi ero appena incamminato verso casa quando vidi il signor Lawrence salire per il sentiero sconnesso in sella al suo ponigrigio mi avvicinai per salutarlo dato che non ci vedevamo da tempo non era la signora Graham quella con cui stavate parlando mi chiese lui dopo avermi salutato sì mi era parso infatti disse carezzando la criniera del cavallo con aria scontenta forse di quanto gli avevo appena detto o di qualcos'altro e quindi niente rispose lui mi era sembrato di aver capito che non vi piacesse aggiunse con un sorriso sarcastico già ma un uomo può cambiare idea quando approfondisce una conoscenza non credete certamente disse sciogliendo un nodo nella criniera del cavallo poi si voltò di scatto verso di me e mi chiese e voi avete cambiato idea non direi no l'idea che avevo è rimasta quella solo un po' migliorata capisco commentò guardandosi attorno in cerca di altri argomenti guardò la luna e disse qualcosa su quanto fosse bella quella serata ma non gli diedi spago tanto mi parve che fosse fuori tema Lawrence siete innamorato della signora Graham gli domandai guardandolo dritto negli occhi non si mostrò offeso come mi aspettavo ma sussultò invece e poi rise come trovando l'idea stessa divertente innamorato di lei ma come vi salta in mente disse beh sembravate molto interessato al fatto che potessi aver approfondito la sua conoscenza o cambiato idea su di lei o pensato che foste geloso rise ancora geloso no solo che credevo avreste finito per sposare Eliza Milward beh credevate male non ho intenzione di sposare nessuna delle due se è per questo allora fareste meglio lasciarle stare e voi sposerete Jane Wilson a Rossi e toccò di nuovo la criniera del cavallo non credo allora fareste meglio lasciarla stare avrebbe potuto rispondermi che in fondo era lei a non lasciar stare lui invece se ne restò lì senza dire nient'altro per mezzo minuto buono quando cercò di nuovo di cambiare argomento glielo lasciai fare ancora una sola parola sarebbe stata un colpo di grazia per lui arrivai tardi per il tè ma mia madre mi aveva tenuto in caldo la teiera e un poco di focaccia mi rimproverò tuttavia accettò le mie scuse quando mi lamentai del sapore amaro che aveva preso il tè a quel punto versò il fondo della teiera nella scodella e chiese a Rose di riempirla con del tè fresco lei obbedì facendo un gran baccano e protestando al posto suo sarei rimasta senza tè e basta e anche Fergus si sarebbe dovuto accontentare e mostrarsi anche riconoscente invece quando si tratta di te non si fa mai troppo se a cena c'è qualcosa di buono mamma mi fa capire con un occhiolino che è meglio se non lo tocco e se ne mangio un po' mi rimprovera subito Rose non esagerare lasciane un po' a Gilbert io non conto niente in salotto è un continuo dire Rose metti via le tue cose accendiamo il caminetto facciamo ordine prima che arrivino loro e in cucina Rose la torta fa la bella grande che i ragazzi avranno fame non mettere troppo pepe lo sai che non gli piace non esagerare con le spezie nel budino che Gilbert lo preferisce semplice o ancora metti tanta uva passa nel plum cake che a Fergus piace e se provo a dire ma a me non piace mi sento rispondere che non devo pensare a me stessa Rose nelle faccende domestiche dobbiamo avere due obiettivi il decoro e accontentare gli uomini di casa alle donne sta bene tutto in fondo io trovo che sia un ottimo punto di vista e sono certa che anche Gilbert la pensa così disse mia madre quantomeno si tratta di un punto di vista molto conveniente per noi dissi ma se vuoi davvero tenere conto di quel che più mi piace dovresti pensare di più ai tuoi bisogni e alla tua convenienza Rose invece è perfettamente in grado di badare a se stessa e quando compie qualche sacrificio non manca mai di sottolineare quanto le costa io se fosse per te abituato come sono a venire servito a vedere i miei desideri persino anticipati potrei vivere nell'ignoranza di quanto è stato in realtà fatto per me se Rose non me lo facesse sapere e vivrei nella più profonda autoindulgenza darei le tue attenzioni per scontate senza mai sapere quanto in realtà ti sono debitore non lo saprai finché non ti troverai sposato con una civetta come Liza Milward preoccupata solo del proprio piacere e dei propri interessi o con una donna superba e cocciuta come quella signora Graham incurante dei suoi doveri e profonda conoscitrice solo di quello di cui non dovrebbe nemmeno interessarsi allora sì che noterai la differenza eppure vedrai mi gioverà non sono certo venuto al mondo solo per godere delle virtù e dei buoni sentimenti altrui ti pare ma anche per mettere in pratica i miei e quando sarò sposato sarò più contento di donare felicità a mia moglie che di riceverne oh tutte sciocchezze Gilbert caro parli come un bambino ti stancherai presto di coccolare tua moglie per quanto bella e affascinante sarà e lì arriveranno i guai seri beh bisognerà aiutarsi a vicenda perché sia possibile ciascuno di voi dovrà occuparsi di quanto gli compete tu delle tue cose e lei sei degna delle sue il tuo dovere principale è di fare in modo che la tua volontà sia rispettata e il suo quello di rispettarla tuo padre pace all'anima sua è stato il marito migliore del mondo ma sei mesi dal matrimonio mi sarei aspettata piuttosto di di vederlo volare che di vederlo impegnato a farmi piacere mi ha sempre detto che era una brava moglie e che facevo il mio dovere così come anche lui ha sempre fatto il suo era preciso puntuale non alzava mai la voce senza che ve ne fosse ragione ha sempre fatto onore a quel che gli preparavo per cena senza quasi mai rovinarlo presentandosi a tavola in ritardo ecco cos'è che una donna deve aspettarsi da un uomo tu cosa ne dici Holford sono tutte qui le tue virtù in casa tua moglie non si aspetta nient'altro da te capitolo 7 non passarono molti giorni era una mattina tiepida il terreno era morbido sotto i miei passi si era appena disciolta l'ultima nevicata che aveva lasciato qua e là dei lievi corrugamenti sotto le siepi ma già si vedevano spuntare le primule e si sentiva il canto della lodola all'amore all'estate alla speranza e a ogni cosa divina ero sul fianco della collina a godere di queste meraviglie e ad assicurarmi che gli agnelli e le loro madri stessero bene quando notai tre sagome che salivano lungo il sentiero erano Eliza Milward Fergus e Rose li raggiunsi attraverso il campo mi dissero che stavano andando a Wildfell Hall e dissi loro che sarei andato volentieri anch'io porsi il braccio a Eliza che lo accettò subito separandosi da quello di mio fratello al quale annunciai che poteva tornare a casa che le ragazze le avrei accompagnate io scusa tanto ma guarda che sono loro che stanno accompagnando me avete tutti avuto modo di conoscere questa affascinante forestiera tranne me così volevo anche io la mia occasione Rose mi ha detto che non mi avrebbe mai e poi mai accompagnato se non fosse venuta con noi anche Eliza e io sono andato di corsa a chiamarla a casa del reverendo abbiamo fatto tutta la strada a braccetto come due innamorati e adesso arrivi tu me la strappi e mi vuoi anche togliere il piacere di questa visita perché non te ne torni alle tue campagne e alle tue bestie villano che non sei altro che ci fai con un gruppo di gentiluomini e signore che non hanno di meglio da fare nella vita che andare a impicciarsi in casa da altri per ficcare il naso in ogni angolo e segreto che ne sai di come ci divertiamo noi perché non venite tutti e due suggerì Eliza soprassedendo sulla seconda parte del discorso ma sì andiamo tutti più siamo e meglio è in quella stanzona tetra piena di mobili tristi ci servirà più allegria possibile disse Rose a meno che non ci faccia di nuovo accomodare nel suo studio infine andiamo tutti quanti la domestica una donna magra e di una certa età ci guidò verso una grande stanza che era come quella che Rose mi aveva descritto quando era andato a trovarla la prima volta una camera ampia e spaziosa ma con finestre alte e piccole e poca luce dei pannelli e un camminetto in rovere scuro quest'ultimo lavorato senza stile qualche sedia uno scaffale disordinatamente pieno di libri e altri oggetti e infine un vecchio pianoforte la signora era su una poltrona dalla spalliera alta e rigida su un lato aveva un tavolino che usava in parte come scrittoio e in parte come tavolo da lavoro e sull'altro lato suo figlio con un gomito sulle sue ginocchia che le stava leggendo qualcosa con incredibile scorrevolezza mentre lei gli accarezzava i riccioli che gli ricadevano sul piccolo collo bianco e perfetto erano in netto contrasto con quanto li circondava notai per quanto quel quadretto si scompose subito dopo che fumo entrati noi e riuscì a goderne la vista nei pochissimi secondi in cui Rachel tenne aperta la porta per farci accomodare la signora Graham non sembrava molto contenta di vederci fu cortese ma incredibilmente fredda nel riceverci io mi misi subito da una parte con Arthur e Sancio a divertirmi un po' con loro mentre Rose e Delays davano il tormento alla signora chiacchierando di questo e di quell'altro e Fergus seduto sulla sedia con le mani in tasca e le gambe accavallate guardava un po' il soffitto e un po' la padrona di casa con un'espressione che mi faceva venire voglia di mandarlo fuori a calci un po' fischiettava sonoramente e ogni tanto interrompeva la conversazione o si inseriva nelle pause con qualche commento inopportuno del tipo non mi capacito signora che abbiate davvero scelto di venire ad abitare in un posto così fatiscente se non potevate permettervi di restaurare questa dimora perché non scegliere qualcosa di più piccolo e ben messo sarà stato per via del mio orgoglio oppure perché di questo posto così romantico e antico io sono innamorata diciamo che in fondo ha i suoi vantaggi le stanze sono spaziose e quelle che non uso sono comode perché pur non pagandole posso sfruttarle come magazzino e mio figlio può andare a giocarci quando fuori piove e non possiamo uscire inoltre c'è un bel giardino dove io posso lavorare e lui scorazzare libero ho già sistemato alcune cose in effetti disse voltandosi verso la finestra ho piantato un'aiuola di verdure laggiù i bucaneve e le primole sono già in fiore e il croco in fondo sta già sbocciando e come fate a vivere così isolata con i vicini di casa lontani due miglia senza che mai nessuno passi a trovarvi Rose diventerebbe pazza lei che non è contenta se non vede almeno una dozzina di gonnelle e cuffiette al giorno per non dire delle teste che ci sono sotto ovviamente mentre voi qui potete stare anche tutto il tempo a guardare fuori dalla finestra senza veder passare neppure una vecchietta che porta le sue buova al mercato ma non è detto che la solitudine non sia invece un motivo di attrazione per me non amo stare in finestra tutto il giorno e mi piace la tranquillità è un modo per dirci che preferite essere lasciati in pace e che tutti noi si torni a farci gli affari nostri in realtà non amo le relazioni troppo strette ma sono ben contenta di vedere un amico ogni tanto se ne ho nessuno può essere completamente felice nella solitudine quindi se avete intenzione di entrare in casa mia d'amico sarete sempre benvenuto altrimenti lasciate che vi dica che preferirei non vedervi così dicendo tornò a rivolgersi a Rose ed Eliza un'altra cosa signora Graham intervenne nuovamente Ferb Gustopo un po' stavamo giusto parlando di una cosa venendo qui su cui potrete senz'altro illuminarci dato che riguarda proprio voi in effetti parliamo spesso di voi perché vedete la gente non ha molto altro da fare che impicciarsi dei fatti che riguardano i vicini ed essendo noi tutti quanti nati e cresciutisti tutti qua abbiamo ormai detto quel che potevamo l'uno dell'altra e il vostro arrivo ci offre la preziosa possibilità di rinnovare questo passatempo per farla breve insomma dovreste dirci se tieni a freno la lingua Fergus lo rimproverò Rose presa dall'ansia nemmeno per sogno allora dovreste dirci qualcosa su dove siete nata e vissuta c'è chi sostiene che siate straniera e chi dice che siate inglese chi pensa che veniate dal nord e chi dal sud ebbene sono inglese e non capisco perché qualcuno dovrebbe dubitarne sono nate e cresciute in una regione della nostra bella isola che non è troppo a nord né troppo a sud spero che siate soddisfatto dato che non ho intenzione di rispondere ad altre domande per il momento ancora una oh no basta adesso disse ridendo poi si alzò per venire accanto alla finestra dove mi trovavo io e per sfuggire all'invedenza di mio fratello cercò di attaccare discorso con me ricordate signor Markham iniziò e il modo veloce di parlare unito al colorito che aveva sulle guance mi disse inequivocabilmente quanto fosse agitata quando parlammo di quella bella vista sul mare un po' di tempo fa vorrei chiedervi il disturbo di indicarmi la strada per arrivarci potrei raggiungerla con l'album da disegno se continuano le belle giornate anche perché ho esaurito qualsiasi altro soggetto ormai e sono curiosa di vedere nuovi paesaggi stavo giusto per risponderle quando Rose mi interruppe oh no Gilbert non stare a spiegarle la strada esclamò possiamo andarci insieme penso che la signora si riferisca a Bay di sicuro una lunga camminata sia per lei che per Arthur ma potremmo andarci tutti insieme per un picnic quando arriva la bella stagione e sarebbe un piacere avervi con noi la signora Graham era in evidente difficoltà e iniziò a tirar fuori delle scuse ma Rose era talmente impietosita dalla sua solitudine o talmente decisa a conquistare la sua amicizia che le respinse tutte e le disse che saremmo stati in pochi tutti amici e che il panorama migliore si godeva dalle scogliere a 5 miglia da lì una piacevole passeggiata per i gentiluomini mentre noi signori potremmo anche essere trasportate già che abbiamo intenzione di portare il pony e il calesse grandi abbastanza per ospitare Arthur e tre di noi inclusi i vostri attrezzi da disegno e il necessario per il picnic alla fine insomma la proposta fu accettata il tempo di accordarci meglio su alcuni dettagli e ci congedammo all'epoca era ancora marzo e fumo costretti a lasciar passare un aprile piovoso e un paio di settimane di maggio prima di decidere di avventurarci volendo trarre dalla nostra passeggiata il piacere di un bel paesaggio allegria aria buona e l'occasione per fare un po' di moto senza la minaccia di nuvole grigie venti e strade fangose infine giunse la luminosa mattina in cui partimo eravamo la signora Graham e suo figlio Mary e Delisa Milward Jane e Richard Wilson e infine Fergus Rose e Gilbert Markham invitammo a unirsi a noi anche il signor Lawrence il quale però per ragioni a noi sconosciute preferì declinare mi recai io stesso a parlargliene lui esitò mi domandò chi c'era e notai che a sentire il nome della signorina Wilson quasi fu tentato di accettare mentre quando nominai la signora Graham nella speranza di tentarlo ancora di più ottenne invece l'effetto opposto e declinò l'invito e a dirla tutta non ne fui troppo dispiaciuto anche se non saprei spiegarti perché arrivammo che era circa mezzogiorno la signora Graham camminò fino alla scogliera e anche Arthur fece quasi tutta la strada a piedi era più attivo e forte rispetto a quando era arrivato e poi non gli piaceva starsene sul calesse insieme a degli sconosciuti mentre i suoi unici amici Sancio la madre il signor Markham e la signorina Milward passeggiavano indietro tranquilli ricordo con piacere quella passeggiata il profumo che emanava dagli alberi di un bel verde acceso che riparavano di tanto in tanto quel sentiero bianco accecato dal sole e i campi di maggio pieni di dolci fiori e prati verdi Eliza non era con me ma sul calesse con le amiche felice quanto me immagino quando prendevamo noi pedoni una scorciatoia e gli alberi mi privavano della vista del suo amato cappellino non odiavo quegli alberi né nessun'altra cosa che ci dividesse in quel momento perché ero abbastanza soddisfatto di stare in compagnia della signora Graham inizialmente fu più che mai scostante intenzionata a parlare solo e soltanto con Mary Milward e con suo figlio camminavano vicine e il bambino in mezzo a loro ma se la larghezza della strada me lo permetteva cercavo di camminarle sempre a fianco mentre Richard Wilson si metteva accanto a Mary Fergus intanto vagava un po' a caso dopo un po' riuscì a catturare la sua attenzione e a tenerla quasi tutta per me e allora sì che mi sentii felice perché mi piaceva tantissimo parlare con lei se le nostre opinioni erano in accordo a piacermi erano il suo buonsenso i suoi sentimenti se invece erano in disaccordo mi piaceva il piglio con cui esprimeva o difendeva tale disaccordo e anche quando mi rivolgeva a sguardi o parole severi non faceva che rendermi più critico nei confronti di me stesso per averle dato un'impressione tanto sbagliata e desideroso di migliorare i suoi occhi e crescere nella sua stima alla fine arrivamo a destinazione mentre salivamo non avevamo potuto godere appieno del panorama ma una volta in cima il mare ci apparve davanti in tutto il suo azzurro viola non era calmissimo tuttavia dai piccoli puntini bianchi in lontananza si capiva che doveva essere leggermente increspato dalle onde si vedevano anche dei bianchissimi gabbiani e due o tre barche all'orizzonte osservai la mia compagna per vedere che effetto le faceva quel paesaggio lei non disse una parola ma dal suo sguardo capì che non era rimasta delusa a questo proposito non so se te l'ho già detto prima ma aveva occhi bellissimi intensi pieni di sentimento quasi neri più che castani di un grigio oscurissimo dal mare soffiava un'aria delicata rinfrescante salutare che muoveva i suoi morbidi ricci e le colorava il viso e le labbra solitamente pallidi aveva su di lei come anche su di me un effetto inebriante quel venticello mi fremeva in tutto il corpo ma non lasciai che prendesse il sopravvento mentre lei fissava la scena in silenzio notai una nota di celata allegria uno scintillio come di felicità nei suoi occhi quando incontravano i miei era incantevole mai come allora e mai come allora sentivo il mio cuore vicino al suo ancora due minuti da soli e non avrei saputo rispondere di me per fortuna il mio riservo e il resto della giornata furono salvi perché gli altri ci richiamarono dopo un attimo per andare a mangiare Rose con l'aiuto della signorina Wilson e di Eliza arrivate in calesse un po' prima di noi avevano imbandito un picnic di riguardo su una radura affacciata sul mare e riparata dal sole grazie a una roccia e a un gruppo di alberi la signora Graham si sedette lontano da me mentre avevo vicino Eliza che fece del suo meglio per essere piacevole e di sicuro era bella e seducente come sempre se solo me ne fossi accorto ma dopo un po' sentì il mio cuore tornare a battere per lei e trascorremo in allegria il resto di quella lunga giornata dopo pranzo Rose chiese a Fergus di darle una mano a radunare gli avanzi e le vettovaglie per riporre tutto nei cestini la signora Graham prese il suo sgabello pieghevole e il materiale per disegnare chiese alla signorina Millward di badare a suo piccolo e a lui di non allontanarsi troppo da lei e si avviò su per la collina scoscesa e sassosa per raggiungere una maggiore altitudine e una vista migliore per iniziare a disegnare qualcosa nonostante qualcuna delle ragazze le avesse sconsigliato di spingersi tanto lontano quando si fu allontanata a me parve che tutta l'allegria fosse finita anche se non saprei dire di preciso come avesse contribuito fino a quel momento al buon umore generale non aveva infatti mai riso né fatto battute particolari ma il suo sorriso da solo aveva alimentato la mia felicità ed era bastato un suo commento azzeccato qua e là perché il mio intelletto si risvegliasse stimolando anche l'interesse per qualsiasi altra cosa venisse detta o fatta nel gruppo e anche se non me ne rendevo conto pure i miei scambi con Eliza avevano beneficiato della sua presenza da quando si era allontanata infatti le battute di Eliza non mi divertivano più mi erano di colpo un peso e mi stufai di doverla intrattenere avevo voglia di scappare verso quell'altura solitaria dove l'affascinante artista era intenta al suo lavoro e non tratteni a lungo quella tentazione appena la mia giovane amica si distrasse con la signorina Wilson ne approfittai per allontanarmi e in un batter d'occhio raggiunsi il luogo in cui sedeva lei una roccia piuttosto stretta strapiombo sul mare non avendomi sentito arrivare quando vide la mia ombra proiettata sul foglio ebbe un sussulto e si voltò di scatto qualsiasi altra signora almeno tra quelle che conoscevo io avrebbe gridato per lo spavento oh caspita siete voi esclamò perché mi avete spaventata non sopporto che qualcuno mi arrivi alle spalle cosa pensavate che fosse le risposi se avessi saputo che eravate tanto impressionabile avrei fatto maggiore attenzione non preoccupatevi come mai siete venuto fin qui stanno arrivando anche gli altri forse no e poi non credo che su questa piccola roccia potremmo stare tutti quanti mi fa piacere sono stanca di parlare d'accordo resterò in silenzio qui a guardarvi disegnare ma come lo sapete che non mi piace beh vorrà dire che mi contenterò di guardare questo meraviglioso paesaggio a questo non si oppose e per un po' continuò a lavorare tranquilla tuttavia ogni tanto non riuscivo a evitare di abbassare lo sguardo sul foglio sulla sua mano bianca ed elegante con la matita in mano sul collo grazioso i riccioli scuri che vi ricadevano morbidi se avessi un foglio e una matita in mano mi dissi da qui potrei fare un disegno più bello del suo raffigurando quel che ho davanti non potevo godere di quella soddisfazione ma mi accontentai di starle accanto in silenzio signor Markham siete ancora qui chiese lei girandosi verso di me nel frattempo mi ero infatti spostato un poco più in là su una sporgenza di roccia coperta dal muschio perché non tornate a divertirvi con i vostri amici oh perché mi hanno stancato come hanno stancato anche voi del resto e poi di loro potrò averne abbastanza anche domani o in qualsiasi altro giorno mentre chissà quando avrò di nuovo il piacere della vostra compagnia che faceva Arthur quando l'avete lasciato era in compagnia della signorina Millward ed era tranquillo anche se sperava che la sua mamma non restasse lontana troppo a lungo ho notato che non l'avete affidato a me la rimproverai malgrado la nostra amicizia ormai consolidata comunque la signorina Millward sa come rendersi simpatica ai bambini e intrattenerli se non altro conclusi la signorina Millward ha molte altre virtù che le persone come voi non possono rilevare né ammirare vi prego dite ad Arthur che arrivo tra poco e in questo caso se non vi dispiace aspetterò questi pochi minuti qui per poi accompagnare voi e i vostri attrezzi giù per questa ripida discesa vi ringrazio ma in queste situazioni riesco sempre meglio da sola permettetemi almeno di portarvi giù l'album da disegno e lo sgabello non si oppose ciò nonostante mi sentì offeso dal suo atteggiamento voleva chiaramente liquidarmi e mi pentì di essere stato tanto insistente mi rassicurò rivolgendomi qualche domanda sul suo disegno in nome del mio buon gusto e capacità di giudizio accolse le mie osservazioni e accettò la mia proposta senza esitare è sempre stato un mio desiderio quello di potermi affidare al giudizio di un altro quando il mio giudizio dopo aver osservato un soggetto tanto a lungo smetteva di essere lucido e affidabile uno dei molti sacrifici di chi conduce una vita solitaria commentai proprio così rispose tornammo in silenzio e nel giro di due minuti annunciò di avere terminato e chiuse l'album una volta tornati alla base trovammo che si erano tutti allontanati eccetto tre persone Mary Milward Richard Wilson e Arthur Graham il più giovane dormiva sodo con la testa appoggiata sulle gambe della signorina mentre l'altro l'era seduto accanto con un libro in mano un vecchio classico non usciva mai senza averne un appresso per riempire i suoi momenti liberi il tempo trascorso senza leggere gli pareva sprecato non gli bastavano quel bel sole caldo l'aria fresca i suoni tranquilli e la musica delle onde e il vento tra gli alberi neppure sedere accanto a una ragazza gli impediva di voler tirare fuori il suo libro per investire meglio il tempo mentre digeriva il piccolo pasto e si riposava dopo aver camminato tanto cosa a cui non era certo abituato può darsi che di tanto in tanto le rivolgesse comunque la parola perché lei non pareva affatto offesa dal suo comportamento anzi quando arrivammo la trovai con un'aria piuttosto allegra intenta a osservare il viso di lui pallido e pensieroso con grande interesse il ritorno fu molto meno gradevole dell'andata per me la signora Graham viaggiò in calesse e accanto a me camminava Eliza Milward che doveva aver notato la mia predilezione per la giovane vedova e forse si sentiva un po' messa in secondo piano non si dimostrò acida severa o musona cose che avrei sopportato senza problemi o di cui avrei riso manifestava invece una certa malinconia una tristezza profonda che mi spezzò il cuore provai a tirarla su con qualche battuta verso la fine del viaggio e con un certo successo ma sapevo bene che il nostro rapporto prima o poi andava chiuso e che stavo soltanto rimandando l'inevitabile momento e alimentando le sue false speranze arrivai in prossimità di Wildfell Hall fin dove il calesse poteva spingersi a meno di non inerpicarsi su per la collina cosa che la signora Graham impedì lei e suo figlio scesero per proseguire a piedi a quel punto Rose poteva spostarsi a cassetta e io convinci Eliza a salire sul calesse al posto di Rose mi assicurai che si fosse ben sistemata le augurai la buonanotte e mi affrettai a raggiungere la signora proponendole di accompagnarli fino a casa per aiutarli a portar su le cose ma lei si era già messa allo sgabello sotto il braccio e teneva l'album in mano e insistette che ci congedassimo lì fu talmente cortese in quel caso che la perdonai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti